Arriva la terza generazione di Hyundai i30 e fa un bel salto in avanti. Lo stile, meno arzigogolato di prima, è più autorevole. Gli aircrafting davanti alle ruote sono dominati da una firma luminosa a LED. La coda ha il portellone sviluppato in 3D. Lo spazio per i passeggeri e per i bagagli è tanto e sono numerosi gli assistenti elettronici alla guida che aumentano la sicurezza. i30 accelera e rallenta in base al traffico e può frenare da sola anche davanti ad un ostacolo improvviso. Ai nativi digitali sono dedicate le ultime sciccherie in fatto di collegamento degli smartphone, Apple o Android, e la ricarica è wireless. I motori sono a 3 e 4 cilindri, benzina e diesel con potenze da 95 a 140 CV. Porte aperte il 18 e il 19 febbraio, quando sarà presentata una versione lancio ad un prezzo interessante. Il listino parte da circa 18.500 euro.